Sono Rocco Braz, nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio Notifica Notifica Grazie a tutti. Ciao amici! Ciao! Oggi esibizione live del Boomer con musica... Aspettate. Esibizione live del Boomer con musica da Boomer, ok? E' uno e due. Amore, tu fai così. Tu schiaccia play quando te lo dico io. Eh? Ma non te lo dico io, eh? Notifiche. Pronti? Lì, devi solo trepere. Già lì dove deve essere. Pronti? Venza via! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Sbagliato l'accordo, scusate, sbagliato la nota. 9, 19, Bella Federica. Notifica. Grazie a tutti. 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 Notifica 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 Outreach Off Montifica Notifica 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 giovani affrontare i suoi periodo bui e mettere su una famiglia con una donna così bella anche se tutti ti odiano io ti adoro ma perché tutti mi odiano ah grazie Justin notifica sapete la cosa più bella che mi dicono quando vogliono farmi un complimento i giovani la tua musica non mi piace però sei una bella persona notifica è la roba che mi fa più male non l'ascolto però è una brava persona è un pugnale raga un pugnale nel cuore c'è l'audio un po' basso mi sentite adesso? adesso dovreste sentirci bene amici mami? bene mami siamo live su twitch ti chiamo dopo mia suocera un bacione aspetta saluta mia mamma ciao marina come stai? tutto bene 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 speriamo di poterci vedere presto ciao fede sto cercando un chiterrista vieni a subire un bacione marina ciao 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 cosa? cosa? gli ho detto che le voglio bene non hai detto che le voglio bene si? gliel'ho detto raga sono tutto pezzato ma quanto mi casa twitch raga quanto sono in crisi di mezz'età in questo periodo ok abbastanza amore come lui zeta 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 posso dire che è proprio un bel uomo Rocco Brazzo? veramente sicuramente